Altra giornata di pesca Il maestrale ancora non è completamente calato Però le previsioni portano in calo e poi dovrebbe girare anche da su dove Mi sa che a rientro oggi come l'altra volta farò il meccanico Visto che ho già riparato una ruota del carrello E oggi scendendo con la barca ho sentito che l'altra stava perdendo Comunque questa volta sulla ruota di scorta Ma speriamo bene che non ci tutt'altro vada male Se dovrò conservare un po' di energie per il cambio gomme Beh, andiamo va Ma speriamo che le previsioni ci abbiano azzeccato Se no qui diventa una cacciara Va bene Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.